eccoci benvenute benvenuti siamo all'open day di ecopsiche scuola di ecopsicologia che quest'anno compie 20 anni lo sentirete ripetere molto perché nel panorama di scuole che mai nascono come i funghi è bello sapere che da 20 anni che siamo attivi in provincia di lecco e da 14 anni in sardegna e io sono marcella danon psicologa ecopsicologa insegno ecopsicologia l'università della valle d'aosta c'è con noi silvia mongili pedagogista ecotuner insegna all'università di cagliari c'è con noi luisa picceni ecotuner green coach angelo custode di tutti gli iscritti in arrivo e in fase di percorso degli studenti ecopsiche e c'è virtualmente con noi anche carmela di carlo lilli di carlo del di ecopsiche sicilia visto che abbiamo questi tre centri e stanno nascendo dei fari dove ci sono studenti che hanno già finito la formazione hanno fatto la formazione formatori come alessandra melucci ops che mi è scomparsa che era qua un attimo fa con la svizzera abbiamo la valle d'aosta il toscana la toscana il lazio sta nascendo la campania insomma ci stiamo stiamo crescendo ben vent'anni anche c'è c'è molto che si può fare in vent'anni quando iniziato a portare l'ecopsicologia in italia io ho vissuto anche a berkeley dove di fatto l'ecopsicologia è nata e ancora nessuno la conosceva adesso stiamo iniziando a essere più noti più operativi lavoriamo con progetti come scuola progetti istituzionali dal 2009 abbiamo lavorato e stiamo lavorando con parchi con cooperative con asili nido comunali col colla del centro volontariato dell'abruzzo dopo il terremoto quindi c'è molto che può essere fatto con una formazione di ecopsicologia ciao maria gioseppe ritrovata quindi io direi la cosa migliore e abbiamo pensato vi presentiamo il sito in modo che possiate poi recuperare anche le informazioni in autonomia per darvi un pochino una panoramica di quello che offre la scuola perché di fatto l'ecopsicologia se vogliamo proprio la definizione tecnica è un approccio transdisciplinare cioè coinvolge tanti diverse discipline l'ecologia e la psicologia in primis quindi l'attenzione al mondo esterno all'ambiente alla nostra oicos casa e l'attenzione a noi stessi al mondo interno alla psiche anima e a questa parola anima ci teniamo moltissimo perché cercando proprio di tenere vivo l'appello di james hillman dobbiamo risvegliare la psicologia l'ecopsicologia proprio valorizza la dimensione con cui ognuno di noi viene su questa terra già con un suo progetto già con una sua natura già con una sua missione e il presupposto di partenza è che noi possiamo renderci utili al nostro ambiente alla nostra famiglia cerchia di lavoro città condominio pianeta ancor di più nella misura in cui ci connettiamo profondamente con chi siamo davvero qual è il contributo che abbiamo da portare su questa terra ed ecco quindi che il fare amicizia con noi stessi fare amicizia con gli altri fare amicizia col mondo sono tre livelli di interconnessione che ecco si che portiamo avanti in contemporanea e li portiamo avanti con questa mappa delle relazioni ecologiche che ci fa da filo conduttore proprio nella formazione quindi sì in copertina vedete quest'immagine coloratissima dell'ultima chicca della scuola che non è nella formazione ma è un progetto particolare lo vedremo tra poco legato a musica e crescita personale il percorso formativo di base che è lo stesso che viene proposto in altre dieci scuole riconosciute dalla international ecopsicology society si chiama ecotuning training è una formazione di 350 ore che accompagna alla teoria e alla pratica dell'ecopsicologia per fare sì che ognuno posta nel suo ambito professionale e o personale e arricchire le attività con quella che è la visione dell'ecopsicologia che ribalta da una visione antropocentrica il mondo è qui per noi e noi siamo i padroni del mondo ha una visione ecocentrica cioè noi siamo parte integrante del processo della vita in evoluzione su questa terra e quindi possiamo dobbiamo vogliamo contribuire insieme a tutte le altre creature a fare qualche cosa di utile perché quello che sarà il futuro di questo pianeta dipende da noi dipende da quello che verrà fatto oggi e non è tanto un impegno per salvare la terra perché questo lo diciamo sempre la terra gaia se la cava ne ha passate di tutti i colori nei suoi cinque miliardi di anni noi siamo proprio veramente gli ultimi arrivati e se non ci diamo da fare per risvegliare consapevolezza della necessità di interagire co creativamente con le forze dell'ambiente della natura degli animali delle piante dei funghi chi se la vedrà male saremo noi ed è un peccato dover rinunciare alla divina commedia al taj mahal al tiramisù e ricominciare tutto da zero con umanità allora ritorniamo coi piedi per terra cosa accompagna a fare questa formazione di eco psicologia accompagna a sperimentare ea diventare facilitatori di un contatto con la natura che non è più solo sul piano cognitivo questo è un leccio questo è una lumaca e questo è una salamandra ma proprio creare una relazione io tu con la natura attivando quella che chiamiamo la green mindfulness cioè la capacità di risvegliare presenza e senso di compartecipazione in natura e con la natura lavoriamo sulle relazioni ecologiche quindi come creare relazioni di qualità a questi tre diversi livelli ognuno con se stesso con gli altri sapiens circostanti e con l'ambiente e lavoriamo anche per un'espansione di costenza cioè per renderci conto che noi siamo molto di più di quello che crediamo di essere per favorire un altro dei grossi handicap di questi nostri tempi che lo psicologo vittor frank definisce repressione del sublime quindi il dimenticare il non prendere in considerazione il non coltivare il non esprimere la dimensione più intima valoriale spirituale di ognuno di noi questo senza in nessun modo volersi sostituire a nessun tipo di percorso spirituale ma è semplicemente favorendo un'apertura che poi ognuno sceglierà di coltivare come ritiene opportuno la formazione in ecopsicologia non è solo per psicologi per questo è stato coniato nell'ambito della società internazionale il termine ecotuning dove il tuner è la rotellina della radio quindi l'ecotuning è la facilitazione della connessione con la natura sarebbe sintonizzazione con la natura ma suona male quindi anche ormai ormai in tutte le scuole del modo anche in quelle di lingua spagnola abbiamo adottato l'ecotuning e l'ecotuner che è la qualifica professionale che si riceve dopo aver fatto questa formazione di 350 ore ricevendo un diploma riconosciuto anche dalla international psychology society chi è l'ecotuner si vai voglio riprendere un po tu la palla sidia coordina ecopsiche sardegna e molti qui con noi sono adesso anche dalla sardegna in sardegna già dal 2013 sono nati cicli di formazione ne sono già stati conclusi diversi e dopo lo splendido convegno che ha coinvolto 143 persone 144 persone sulle rive di sarenas che esattamente dove c'è la sede della scuola di ecopsicologia adesso sta ripartendo alla grande a te la palla così riprendo fiato sì grazie marce allora l'ecotuner marcella ci stava parlando ci ha dato un po le coordinate generali della scuola dell'ecopsicologia e del percorso proprio di ecotuning che è proprio il percorso che prepara poi i facilitatori quindi un po la figura è proprio quella della del facilitatore del facilitatore di percorsi di riconnessione con la natura che può essere utilizzata in tanti in tante situazioni diverse quello che è importante da capire è che l'ecotuner può essere vista sia come una specifica qualifica professionale ci dà proprio strumenti nuovi per portare le persone in natura da accompagnarle a un lavoro di connessione profonda tra quella che è la nostra natura interiore e quella che è la natura così come siamo abituati a vederla fuori di noi ma allo stesso tempo oltre ad essere una qualifica vera e propria specifica la possiamo vedere anche come una sorta di completamento o di aggiornamento professionale per chi ha già delle professionalità ben ben precise vi faccio vi faccio il mio stesso esempio quando io mi sono mi sono formata in ecotuning ormai prima dicevo 10 anni fa adesso non lo posso più dire stanno diventando 12 13 appunto è passato un bel po di tempo è stato importante perché avendo già sì una mia una mia formazione in quanto pedagogista e formatrice con attraverso il percorso di ecotuning ho potuto fare un po un salto di qualità lo chiamo io perché mi ha permesso di portare all'interno della mia delle mie pratiche professionali una marcia in più che proprio data da quella lettura che faceva prima Marcella e che corrisponde un po a quelli che sono i tre cerchi fondamentali dell'ecopsicologia quindi tutto il lavoro sulla 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 leadership personale il lavoro importantissimo sulle relazioni ecologiche e poi tutto il lavoro di espansione che possiamo proprio chiamare di widening che ci permette di renderci conto di quanto siamo molto di più di quello che spesso crediamo di essere tutto questo portato all'interno della pratica professionale aiuta le persone a fare un salto in avanti quello che possiamo chiamare anche proprio un vero e proprio salto evolutivo perché ci permette di riconoscerci parte di un universo molto più grande e quindi di creare tutte quelle connessioni che ci permettono di avere una visione più ampia sia di noi stessi sia della degli altri quindi della del mondo umano e non umano nel quale ci troviamo sia dell'ambiente inteso in senso in senso più ampio la formazione in ecotuning training ci dà proprio la possibilità attraverso la complessità della del percorso che è fatto di di esperienze in natura quindi tutta la parte più espedenziale di formazione ehm online formazione a distanza attraverso anche una piattaforma ben specifica ci dà la possibilità di costruire tutti quei mattoncini che ci permettono poi di costruire il nostro la nostra modalità di essere ecotuner perché non esisterà mai un ecotuner uguale a un altro ma ciascuno di noi in base anche alla sua mh sia la sua formazione ma anche alla sua esperienza intesa in senso lato costruirà il suo mh la sua cassetta degli attrezzi chiamiamola così perché è il termine che un po che un po conosciamo tutti che ripasso la palla così grazie 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 quindi a chi è rivolto questo l'abbiamo già visto sia per arricchire attività personale sia per arricchire attività personale perché è anche un percorso di crescita perché tutte queste belle cose che avevamo elencate non sono apprese sulla testa sono vissute sperimentate nella pratica insieme al gruppo che si crea gruppo a cui affluiscono diverse professionalità diverse tipologie di persone diverse età al nostro studente più giovane a 21 anni e quello più grande ne ha 64 quindi è la differenza d'età non conta ci si incontra davvero su obiettivi subiettivi comuni come è strutturato il percorso e questo c'è luisa sempre a ricordarlo non appena qualcuno si scrive qualcuno lo sa c'è una bella chiacchierata con luisa che accompagna proprio a ricordare come è strutturato il percorso di fatto ci sono sette seminari esperienziali divisi in quattro momenti quindi un momento da giornata singola e tre dal weekend che possono essere seguiti la formazione è circolare quindi si può entrare in qualsiasi momento nel percorso e possono essere seguiti anche in ordine sparso che sono sette seminari che ripercorrono le sette tappe delle relazioni ecologiche cioè sette atteggiamenti che favoriscono il creare relazioni di qualità a tutti i livelli ci sono tre perché questi sono in presenza e vengono realizzati in brianza in sardegna in sicilia e a poco poco li stiamo inserendo anche nei diversi fari abbiamo due laboratori pratici di ecotuning uno a maggio e 1 ottobre che sono proprio il cuore della formazione perché dove chi partecipa già si sperimenta a condurre qualche cosa prima un esercizio breve poi un esercizio un po più lungo proprio per farsi le ossa per quello che sarà il progetto finale da realizzare perché il progetto finale sarà proprio l'ideazione l'organizzazione e la conduzione di una giornata di ecotuning nell'ambito in qualsiasi ambito scelto tutto questo processo ideazione organizzazione viene fatto con l'aiuto dei docenti dei tutor dei compagni di viaggio ricevendo feedback noi ci troviamo anche periodicamente almeno una due volte al mese ci sono mesi che anche quattro o cinque in incontri serali supervisioni serali che dove questi progetti vengono presentati e dove vi viene presentato anche un libro perché uno degli obiettivi anche facilitare l'allenamento alla comunicazione alla presentazione e abbiamo una tutor splendida stefania ging che da anni ormai ci accompagna in questo che è un insegnante di computer grafica che accompagna anche a creare delle presentazioni in powerpoint carine che oggi ormai è una competenza indispensabile ci sono poi due le perle di vetro ci sono un sacco di gnomignoli nella scuola ci sono le sequoie che sono seminari le perle di vetro sono i corsi opzionali quindi ognuno ha due perle di vetro a disposizione che possono essere usate o come sconto su formazioni più lunghe o come percorsi online o come seminari extra programma ecco questo è la formazione base quindi quattro seminari i sette seminari no sono quattro seminari di fatto quindi uno di una giornata e gli altri tre di due giornate dove si esplorano l'attenzione l'ascolto e il rispetto l'empatia la presenza l'empatia al dialogo e la sinergia ci sono tre i learning tre percorsi da fare online in autonomia a sincroni no uno è sincrono e lisire sincrono nel senso che sono sette lezioni ma mi ascolta sono sette lezioni di un'ora che si sono consolidate negli anni del lockdown quando anche l'insegnamento che ho dovuto fare insieme al professor giuseppe barbiero l'università della valle d'aosta ha dovuto essere fatto online e allora avevamo elaborato questo percorso e si è rivelato funzionale quindi ed isiri di ecopsicologia sono sette lezioni di un'ora una volta alla settimana che però vengono registrate e se qualcuno non le può seguire le segue nell'aula corrispondente in academy risponde a qualche domanda ed è come essere stato presente abcd e l abcd ecotuning è quello che presenta con pezzi di filmati contesti con esercizi da proprio un po una panoramica moltissimi esercizi e pianeta io il percorso di crescita personale non entrerei più in dettaglio anche perché poi se qualcuno vuole può appunto chiedere a luisa magari solo farvi intravedere cosa sul sito trovate la metodologia le testimonianze trovate i costi e trovate le specializzazioni la specializzazione che ha più successo che promuoviamo di più perché mette in mano una professione mentre ecotuner è una professione che ci nuova ancora green coaching dà in mano una base un diploma perché siamo centro formazione riconosciuto dalla association for coaching che è un'associazione britannica internazionale in coaching in life coach di fatto è una è una formazione per diventare professional life coach con orientamento di eco psicologia quindi la specializzazione quindi green coaching include ma tutte queste specializzazioni includono tutta la formazione di eco tuning più la parte di green coaching abbiamo una specializzazione specifica per psicologi quindi dopo essere diventati ecotuner come posso orientare tutto questo nella conduzione di incontri one to one psicologi counselor abbiamo una specializzazione per chi vuole soprattutto in ambito educativo applicare l'ecopsicologia che include il famoso seminario eco formazione dico include perché cioè dico famoso perché è un seminario che teniamo a luglio ormai da anni che è molto è molto richiesto è molto utile molto pratico soprattutto per chi lavora o vuole lavorare in ambito formativo proprio della formazione scolastico formazione di adulti qualsiasi tipo di formazione di fatto io sono psicologa per le organizzazioni ho lavorato 14 anni in ambito in ambito in ambito organizzativo e tac adesso sono dimenticata che cosa volevo dirvi ok che ci sono tantissime applicazioni proprio ah sì quindi anche formazione per adulti e anche formazione aziendale ci sono nuovi ci sono tre qui ne vedete due un altro lo stiamo ancora preparando novità per quest'anno qui ci sono anche diversi ecotuner quindi interessante anche per voi c'è ecopsicologia di comunità che è stato annunciato già al convegno con l'idea di collaborare anche con coru che la scuola di marian rio e di claudio perera i rappresentanti di cile e di colombia che sono molto specializzati ogni scuola della yes international psychology society ha una sua specializzazione e marian e claudio lavorano moltissimo proprio con le istituzioni su progetti sociali di integrazione di promozione di nuove abitudini abbiamo una specializzazione ecopsicologia e ioku dove ioku e immersione quindi non solo immersione in foresta ma immersioni in natura grazie a questo bellissimo incontro che avvenuto con la dottoressa fiammetta piras e antonio pulito l'ho trovato in un page prescrizioni verdi questo mondo dei medici mia acchiappata mi sono sentita chiamata proprio perché mi sono ritrovata a tenere una formazione organizzata dall'università della valle d'aosta un corso cm per medici sono stata poi coinvolta sono stata invitata come keynote speaker in belgio a un convegno di medici di base proprio per promuovere questa questo nuovo filone del sensibilizzare i medici dell'importanza di suggerire a persone che hanno dei malani allo stato iniziale ansie preoccupazioni inizio di diabete prima delle medicine anche prescrizioni verdi cioè vai cammini dai contatta e chiaramente il medico magari sa solo che gli può fare bene e ha bisogno di un intermediario che possa accompagnare la dottoressa pira se un medico dello sport lei ha da 15 anni lavora da una vita in questo ma da 15 anni ha proprio è signora del bosco del bosco di puc in in toscana tra l'altro il 16 tra sei giorni guardate sempre sull'home page o cercate anche su sulla newsletter cercate cioè ci sarà un incontro aperto per tutti gli interessati ad approfondire il tema delle prescrizioni verdi e questo è una formazione che permette di fare quel quell'arricchimento che le continuer ancora non ha per poter fare una prescrizione verde e un'altra specializzazione che stiamo mettendo in campo è quella proprio per eco psicoterapeuti cioè per psicoterapeuti che vogliono operare con l'ecopsicologia e che hanno un percorso diverso rispetto all'ecotuning stesso numero di ore ma invece che focalizzarsi sul lavoro coi gruppi si focalizzano fin dall'inizio sul lavoro con i singoli pazienti e abbiamo cinque diversi docenti internazionali perché diversi psicoterapeuti della IES verranno coinvolti anche loro nella docenza ecco questa è la formazione principale che trovate entrando nella home page della scuola la trovate qui proprio diventa ecotune qui c'è un link diretto diventa green coach e c'è un link diretto qua però vi trovate la pagina ancora in aggiornamento poi nel sito in questa sezione trovate seminari singoli corsi singoli online perché c'è la possibilità di iniziare anche assaggiando con un singolo corso un singolo seminario di sotto funzionato sempre molto bene il primo poi viene scontato integralmente se ci vengono seguiti di più gli altri sono scontati al 50 per cento sotto trovate tutte le attività in programma in tempi brevi ancora più sotto trovate la possibilità di iscrivervi alla newsletter ma credo che se voi siete qua promette siete arrivati tramite la newsletter eccoci qua qui avete link all'attività nelle tre sedi quindi abbiamo questi tre centri di formazione dove qui sotto sono linkabili qui abbiamo per esempio sardegna e trovate proprio dove quando sono i prossimi seminari in sardegna naturalmente iscrivendosi ai scopsi che a sardegna si possono seguire i seminari anche mrianza e viceversa anzi molti utilizzano questa possibilità per farti dei bei viaggetti e incontrare colleghi di 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 altre regioni che molto ricche il sentiero dei sette incanti è un percorso molto particolare che ha già avuto una sua edizione in presenza che ha detto una sua edizione in la online nata dalla collaborazione con paolo basco che è un musicista ma in realtà è un giurista che ha lavorato per 43 anni nella direzione di carceri di diverse città italiane e il suo impegno è stato fin dall'inizio quello di portare l'approccio umanistico quindi lui ha proprio come missione personale accompagnare le persone a trovare chi sono davvero e a portare il loro contributo al mondo ci siamo trovati con la stessa missione lui ha questa ben splendida the voice in the wind sono quattro musicisti ed è nato questo percorso che mette insieme musica e ricerca interiore e iniziamo proprio a sono sette incontri online di una settimana di di un'ora e iniziamo proprio a fine adesso fine gennaio ecco un po di corsa e allora da non perdere l'anniversario del 23 marzo allora questo è il verde ashram di manos è un terreno di poco più di mezzo ettaro nel triangolo lariano tra lecco e como le montagne di lecco e como a otto chilometri da dove si è trasferita luisa udite udite c'è proprio la vita un ottimo senso del humor e e questo terreno mi è arrivato su un proprio per farci l'attività più wide più selvatiche di eco psiche siamo a 20 minuti a piedi dal borgo di rezzago 306 abitanti e la festa del 23 gennaio 23 marzo sabato 23 marzo sarà sia l'inaugurazione del verde ashram di manos così si chiama perché mano è l'artista sardo che ha curato che ha abbracciato questo terreno per 30 anni facendoci meditazione gruppi di crescita attività artistica ortoterapia quindi è un terreno che ha un'energia spettacolare sulle rive di un ruscello che è un affluente dell'ambro quindi ci troveremo dalle 10 alle 5 a rezzago per fare un'escursione al mattino poi un pranzo in ristorante e poi un raccontare un pochino come stiamo facendo adesso ma anche un po più lasceremo la parola anche ad altri co tuner raccontare un pochino cosa fa la scuola di eco psicologia aperto a tutti gratuito a parte il pranzo che ognuno si sistemerà e però questo è proprio l'evento più impattante dei prossimi mesi e vi ho detto vent'anni ecco che questo un'immagine a questo sono io vent'anni fa è un'immagine al borgo di colotti siamo in in umbria dietro di dietro dove viene fatta la foto e bruno gentile che ha fatto la foto ecopsiche nasce dalla dall'incontro dal grande amore tra me e bruno gentili fisico esperto di geometria sacra esperto di complessità che adesso ci sostiene dalla dall'invisibile ubiquità come mi piace chiamarla quindi alle sue spalle c'è l'osservatorio astronomico dell'università di perugia perché questo borgo era nella è nella valle del carpino e lo cinque chilometri di sterrata bianca terribile perché un osservatore astronomico ha bisogno di un posto lontano da tutto e da tutti per poter funzionare io direi che ne dici io mi fermo qua sì perché per lasciare allora silva se vuoi aggiungere qualcosa luisa se vuoi aggiungere qualcosa e voi iniziate a pensare se avete qualcosa da chiedere o anche da dire visto che ci sono qua diversi ecotuner io giusto per chi magari non appunto non conosce la scuola possiamo vi ricordo appunto che la scuola nasce a usnago in brianza oggi ha tre sedi ed è possibile frequentare la formazione appunto nel nelle tre sedi anche con la formula un seminario qui un seminario lì per quanto riguarda la formula esperienziale è un'altra cosa che adesso mi è un po sfuggito quindi non so se Marcella l'hai già detto è che è possibile anche partecipare due volte alle sequoie alle sequoie coi primi sette seminari di cui Marcella ha parlato all'inizio che sono quelli che seguono le sette tappe delle relazioni ecologiche e questo per esempio offre proprio l'occasione di poter dire ok io partecipo alla formazione col mio gruppo perché magari una volta che iniziamo a lavorare con un gruppo specifico ci fa piacere anche proseguire il cammino con quel gruppo ma allo stesso tempo posso andare ad assaggiare se sono in brianza in sardegna o in sicilia anche un'altra un altro genius lucci perché poi è questo fondamentalmente perché ogni territorio ha un suo ha un suo spirito profondo e quindi è bello anche vedere come ci sentiamo noi nei vari anche nei vari luoghi con le varie persone renderci conto anche di come i gruppi veramente respirano un po tutti quella stessa dimensione quelle quelle connessioni e spesso ce lo diciamo durante i seminari molte volte in contemporanea c'è qualcosa in brianza in sicilia in sardegna e ci sentiamo profondamente sempre in connessione da questo punto di vista quindi questo è un invito proprio anche ad andare e provare altro sentire anche come noi cambiamo anche e come ci evolviamo in base anche ai luoghi e alle persone con cui ci troviamo a condividere il percorso una parola in più sui genius loci perché abbiamo il parco di monte vecchi della valle del curone che è un gioiellino io dico che i brianzori nascondono i milanesi perché non c'è un cartello che dice come entrarci abbiamo in sardegna la pineta di sarenas in riva al mare in sicilia abbiamo le pendici dell'etna e la so quasi la sommità dell'etna perché se quando andiamo al clan dei ragazzi di piano provenzana siamo a 1500 metri e adesso è stiamo anche a pura vita che nei monti dei nebro di se non sbaglio nei dintorni di palermo tra palermo e catania palermo e catania quindi sono dei posti molto belli poi in realtà se quando prenderete la newsletter vedrete che c'è anche un'iniziativa nell'isola di gavdos a giugno che nel sud è l'isola più sud del mediterraneo una collaborazione con la scuola greca e dal 2018 che con clio apostolachi psicoterapeuta dalla grecia abbiamo delle collaborazioni un seminario in italia dove vengono i greci un seminario in grecia dove vengono anche gli italiani ci divertiamo un sacco chi vuole chiedere chi vuole dire chi vuole abbiamo un pochino di tempo posso portare una testimonianza ma benvenuta allora porto la testimonianza che ho ritrovato casa come sai marcella quando ho incontrato diciamo ho incontrato te nel senso mi sono sentita a casa era il lontano 2010 circa e vabbè io sono sono in calabria perché ovviamente non mi conosce mi chiamo serena e ho condiviso il percorso della scuola con con silvia e con alessandra quindi un po di tempo fa e nel periodo quando ci siamo conosciute io smanettavo sul sul web in cerca di casa cioè io mi sentivo a casa solo nella natura facevo la geologa in studio e accompagnavo da sempre le persone di incontrare la natura e tutti mi dicevano che ero pazza no e sentendomi pazza effettivamente ma ben volentieri mi sentivo pazza smanettando su internet ho trovato che non ero la sola pazza fortunatamente e mi sono ritrovata a casa e ho trovato il numero di telefono di marcella della scuola di ecopsicologia perché ero fermamente convinta che ci fossero degli altri pazzi come me no e allora ho trovato ecopsicologia sono arrivata a casa ho preso il telefono e ti ho chiamato e ci siamo messi a chiacchierare delle varie esperienze eccetera io ho iniziato la scuola perché poi sono sono venuta su in val in valmasino noi siamo sì in valmasino al convegno mamma che meraviglia che esperienza meravigliosa stupendo ed è lì poi iniziato tutto e si può dire che in realtà sono sono stata deformata ormai sono deformata sono mentalmente deformata in ogni dove io porto l'ecopsicologia ecopsicologia cioè adesso sto lavorando per il comune di reggio calabria per un incarico con un incarico di un di un anno e mezzo per come esperto per la redazione del master plan della città di reggio calabria cioè diciamo una sorta di piano strategico e anche lì durante il colloquio pare che io sia stata presa perché ho parlato dell'ecopsicologia e ho detto che era importante fare in modo che le persone miei concittadini potessero avere l'opportunità di cambiare visione che senza l'amore non non andavamo da nessuna parte senza la riconnessione con la natura sembra che io sia stata presa per questo motivo ora si stanno pentendo più dei loro peccati perché rompo le scatole ininterrottamente sui laboratori di eh partecipati sulle metodologie nostre insomma in queste cose e idem per le immersioni in foresta come sai e quant'altro quindi questa deformazione io la consiglio a tutti quindi chi non avesse deciso ecco poi farò una testimonianza e la mettiamo su ecopsiche così eh cercherò di insomma di così di lasciare andare la mia esperienza perché voli nell'etera e possa eh possa colpire chi si chi è sintonizzato sulla stessa frequenza io sono contentissima di avervi ritrovato eh anche perché non ci siamo lasciati mai e e quindi insomma continueremo sono certa che ci rivedremo presto grazie abbiamo un gruppo facebook che si chiama professione ecotuner aperto a tutti in lettura e trovate tante delle proposte eccezionali di Serena che fa in in Calabria nei nei Flaspromonti tutti questi posti splendidi grazie allora Veronica ha alzato la mano sì grazie allora innanzitutto buonasera a tutti ciao a tutti e grazie per questa presentazione ma soprattutto grazie per il lavoro che fate perché anch'io ecco mi ritrovo molto in quello che ha appena detto Serena eh mi sento mi sento già a casa eh avendo guardato spulciato un po' il sito avendo ascoltato eh questa 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 retta insieme eh una domanda molto semplice la mia eh spulciando appunto il sito ho visto che c'era eh lo scorso anno un percorso che si chiama mh radici credo ehm e che sintetizzava una serie degli elementi che hai citato anche per la per l'ecotuner e per il e per il green coach ecco volevo sapere se quel tipo di configurazione degli interventi è ancora disponibile per il duemila e ventiquattro ed eventualmente ehm come si connette ai due percorsi successivi cioè se ci sono poi perché ho visto che ci sono i passaggi e quindi eh se potevi appunto di confermare se nel duemila e ventiquattro c'è anche questo certo certo grazie grazie la domanda se vai nell'ultima nella quarta casellina eh seminario crescita personale perché radici è è la parte più mh di lavoro personale di mh della formazione quindi si va sotto 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 eccolo qua affonda le radici in ciò che sei perché affonda le radici in ciò che sei e cambia il mondo è il motto della scuola quindi affonda le radici in ciò che sei questa prima parte che include i sette seminari i tre corsi in learning e le lanterne verdi e i webinar che sono webinar che sono anche facoltativi che vengono organizzati quindi questo vive di vita propria non non dà ancora la qualifica di ecotuner perché un lavoro soprattutto su di sé ma permette di continuare quando si vuole integrando con con la for col col titolo di ecotuner in effetti per esempio in sicilia al momento stanno facendo soprattutto radici stanno tutti facendo radici e poi si sta creando un gruppo e allora faremo anche il andremo lì a fare perché la parte di formazione intera c'è il laboratorio è molto più complessa però questo è sicuramente una possibilità che c'è in tutte e in tutte e tre le sedi perché si lavora con lo stesso gruppo cioè si è con lo stesso gruppo che fa ecotuning semplicemente si fanno i seminari aspetta che ti ho persa ecco sì le finestrelle hanno cambiato di posto e quindi sono gli stessi seminari sono gli stessi percorsi di learning quindi il linguaggio è comune e se e quando si sceglie di passare di riagganciarsi alla formazione lo si può fare quindi grazie grazie della domanda un dettaglio che è emerso è che per concludere la formazione basta un anno cioè in un anno la scuola da tutto quello che è necessario per concludere la formazione ma anche se si conclude si prende già il diploma l'iscrizione rimane valida comunque due anni questo vuol dire che in questi due anni rimane aperta l'aula in academy magari vi faccio anche vedere l'academy è possibile come ci ricordava silvia partecipare ai ai seminari una seconda volta partecipare a tutte le supervisioni quelle online e quelle in presenza vedete questa è l'academy e queste sono le diverse aule quindi c'è l'aula di ecotuning però c'è l'aula di radici c'è l'aula di chi fa solo a bcd e c'è l'aula di chi fa al set in campi e poi vabbè adesso non sono connessa quindi non si apre o forse qualcosa si vede anche aprendo sì ecco qua all'interno dell'aula vi trovate un riassunto di tutto quello che è il percorso del programma chi sono i tutor quali sono i diversi corsi di learning c'è la bibliografia le mappe c'è la biblioteca di tutti i libri e di tutti i progetti che sono stati presentati negli ultimi anni quindi di fatto un corso all'interno del corso cioè sono progetti video registrati e sono i progetti iscritti c'è la registrazione di tutte le supervisioni la registrazione delle lanterne verdi di speranza attiva che sono quelli sono dei webinar facoltativi in cui noi incontriamo professionisti che girano attorno alle ecopsicologie non sono ecopsicologi però fanno delle attività attinenti tutte le informazioni cosa mi serve per concludere il libretto autogestito dove ognuno tiene conto di quello che ha fatto tutte le istruzioni e le specializzazioni quindi questa è un academy su cui abbiamo sudato tanto prima di riuscire a metterla in piedi per cercare di compattare in un'unica piattaforma tutte le diverse realtà in cui i corsi online della scuola sono e ancora e ancora è ancora in divenire non abbiamo ancora finito questo immenso trasloco e metti a disposizione una ricchezza immensa di materiali proprio perché materiali sia creati direttamente dalla scuola ma poi creati da chi partecipa ai corsi della scuola quindi veramente una ricchezza immensa e questo rimane appunto l'accesso all'academy rimane due anni e poi se non si finisce entro i due anni c'è la possibilità di iscriversi al club delle lanterne verdi che per una cifra abbastanza minuta consente di aumentare di ancora un anno quindi avere ancora un anno di accesso a tutto quanto le supervisioni all'academy al rifrequentare i corsi e naturalmente qualsiasi dubbio c'è luisa che è a disposizione dai luisa aggiungi anche tu qualcosa volevo solo dire questo che è quello che dico a tutti gli studenti quando faccio lo zoom alla fine dico io ci sono quindi qualche dubbio qualche domanda qualche perplessità o mi scrivete o mi chiamate e io ci sono quindi anche se qualcuno di voi stasera ha qualche domanda o gli arriva durante la notte ad esempio di notte 3.000 pensieri mi arriva durante la notte può scrivere info chiocciola ecopsicologia.it e io vi rispondo e quindi io ci sono grazie mille noi siamo scintille verdi e blu lei blu io vero abbiamo ancora qualche minuto se c'è qualche altra domanda o qualche altra ciao a tutti io sto a siena in toscana quindi e ti volevo fare una domanda in oriente a questa zona volevo sapere dov'è il faro in toscana castel san nicolò castel san nicolò è nel casentino vicino le foreste casentinesi a una ventina di minuti dall'eremo di camaldoli ho capito quello lo conosco e ti volevo chiedere i seminari si possono seguire seguire anche in toscana o per ora sono principalmente insomma all'ecco in sicilia in sardinia adesso sono allora in toscana ci sarà a maggio un'edizione di sentiero dei sette incanti che però non fa parte della formazione e in autunno ci sarà la prima edizione il primo seminario verrà tenuto in toscana lo metteremo in programma anche in autunno non so se ci hai sentito forse si è bloccata ma qualche problema di connessione infatti credo si sia bloccata ok lo riraccontiamo quando invece su roma siamo su calcata a napoli sarà l'otto giugno a pesco sannita provincia di benevento in valle d'aosta siamo in valsavranche e mi andava via preciso in questo momento ho detto che a maggio ci sarà il sentiero dei sette incanti che però non fa parte della formazione ma 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 c'è tentare perché avete due perle di vetro e uno può scegliere di farlo come perla di vetro e in autunno ci sarà il primo seminario il primo dei la prima sequoia verrà tenuta a Castel San Nicolò ancora non abbiamo la data perché c'è Fiamma Baldini che è una psicologa che sta finendo la formazione si farà a luglio eco formazione e allora attiverà la possibilità di condurre a sua volta i seminari di base grazie e un'altra domanda ce l'avrei con ho visto che la scuola è gemellata con Spagna Argentina anche e volevo sapere questo gemellaggio nella pratica come come si incontra poi nel percorso allora al momento è un gemellaggio di cuore però è ovvio che se qualcuno viene in Italia come è successo dicendomi che ha già frequentato dei seminari in Spagna uno per uno facciamo un programma vediamo quali parte della sua formazione è stata già fatta e allora viene scontato sia come frequentazione sia come come costo e la procedura informale è in atto perché ci conosciamo tutti perché la società internazionale di ecopsicologia ha questa peculiarità che non siamo solo colleghi siamo amici seguendo il ragionamento che ci aveva fatto Serena quando sempre nel 2010 sono venuti mi arrivano mail amici dalla Spagna erano quattro psicologi spagnoli che da vent'anni lavoravano in natura da soli e credendo di essersi inventati qualcosa e vengono e mi dicono cioè prima di andarsene prima di salutarti dicono e incontriamo su nostra manada la manada è il branco quindi ho proprio sentito di aver incontrato come avete detto voi la casa e poi sono diventati rappresentanti della Spagna scuola spagnola quindi diciamo che ogni caso se lo si studia insieme in collaborazione col direttore della scuola da cui arrivi e il direttore della scuola con cui passi grazie io ho finito le domande e comunque volevo dire che è bellissimo cioè nel senso non non c'è tante scuole anche che si occupano di altri come si dice indirizzi di studio così tanto aperte interdisciplinari quindi per me è un po' come si dice sono sorpresa ma anche ma anche no nel senso è bello così però sono contenta che ci siate ecco non vi conoscevo per niente e anch'io condivido un po' quello che ha detto prima Serena sul fatto che ho cominciato a fare cose da sola nel bosco e poi ho pensato che forse ci poteva essere qualche altro matto a giro che ci stava pensando e così sono finita qua ecco ottimo come ci hai trovati Elisa cercando quindi su internet? sì esattamente cercando un modo per continuare quello che stavo facendo ma con una guida e possibilmente con dei compagni di viaggio quindi ecco è veramente un piacere essere qui che bello bello bene grazie benvenuta grazie a voi benissimo gli ultimi cinque minuti quindi una cosa che non è stata detta è che i prossimi seminari appunto che possono essere considerati anche introduttivi saranno a gennaio il la data marcia 27 27 gennaio in Brianza il 4 febbraio in Sardegna quindi abbiamo queste due date poi a seguire in Sicilia adesso io non non ricordo la data in Sicilia ce n'è due in aprile uno il 14 a Catania e uno il 21 a Palermo 5 maggio l'abbiamo appena fissato con Alessandra in Svizzera che è a Auriglio fuori Lugano l'8 giugno in Campania e dobbiamo definire ancora quello del Lazio e quello della Valle d'Aosta comunque sul sito trovate tutto www.ecopsicologia.it vi potete registrare la newsletter è solo una al mese trovate anche tante informazioni in sintonia sulle tematiche comunque che ci interessano abbiamo una pagina facebook che esploderà in bellezza a partire dalla seconda metà di gennaio perché ci aiuterà una delle nostre studentesse a una società di comunicazione e ci viene in aiuto quindi cercatela scuola di ecopsicologia e mettiamo lì tutte le novità il sentiero dei sette incanti è anche una pagina facebook con tanta informazione e tanto materiale l'andiamo arricchendo come fosse un albero di Natale Paolo dalla Toscana e io da qua e poi un'altra pagina facebook che vi ho citato è professione ecotuner adesso l'ho vista che è un po' ferma però andando indietro scorrendo vi fate un'idea di cosa ecotuner diplomati negli anni stanno facendo quali lavori quali attività quali seminari stanno facendo cioè le possibilità di applicazioni sono tantissime molto con le scuole molto chiaramente mettendoci la vostra creatività la vostra imprenditorialità la vostra ispirazione l'ecopsicologia ci mette strumenti idee sostegno studi scientifici che confermano la validità di quello che state facendo cioè c'è anche tutta una parte scientifica che serve proprio per darvi strumenti teorie nomi che possano dare credibilità a quello che state facendo cioè non state più l'abbiamo iniziato tutti così io so che andando nel bosco ci sto bene non ho bisogno che uno scienziato mi dica la teoria che lo conferma però molti hanno bisogno di questo e va bene diamoglielo già che c'è glielo diamo ci sono tante teorie ormai e sono quelle che studiamo proprio in dettaglio questa collaborazione con l'università della valle d'aosta non a caso io tengo questa formazione insieme a un ecologo il professor giusate barbiero quindi e io psicologa quindi c'è stato un arricchimento reciproco e la scuola di ecopsicologia italiana grazie anche alla spinta di silvia darà sempre più spazio alla dimensione eco o icos tant'è vero ecologia tant'è vero che questo ancora non è scritto sul sito però ve lo diciamo tra le richieste ci sarà anche di crearsi un erbario albolario animalario di almeno 12 piante 12 alberi e 12 animali che vivono nelle regioni in cui io lavoro e su cui mi vado a cercare informazioni curiosità e dettagli per poter inserire nelle attività che io faccio che non è camminare dire questo e questo e questo e dell'altro è inserire proprio con lo spirito del bardo della narrazione della fascinazione una opportunità di incontro con le creature un po più ravvicinato come creare un incontro io tu e poi scoprirete cos'è che non ha ancora partecipato agli incontri vero profondo con tutti gli elementi poi è questo bene orario perfetto liberiamo almeno che non ci siano altre domande naturalmente ma per qualsiasi cosa poi potete anche contattarci luisa vi ha dato la mail quella generale poi ci sono quelle specifiche anche delle varie sedi ma trovate tutto ovviamente sul sito trovate anche contatti telefonici perché ormai è tutto abbastanza conosciuto per cui per qualsiasi cosa non esitate a contattarci proprio anche fosse anche solo una curiosità un suggerimento qualsiasi cosa è bella la comunità che si crea e anche perché ricordiamoci che ognuno arriva quando il suo momento quindi senza forzature di nessun tipo mai non avrebbe proprio senso grazie grazie per esserci stati grazie per l'attenzione per le condivisioni per la partecipazione e buona serata buone giornate che si riallungano arrivederci presto in un in un genio sloci o in un altro grazie ciao grazie grazie ciao 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 grazie Marcella grazie a tutti ciao 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 ciao